non so se capisci ma perché te lo sto più male? ah! come che sei roso ogni? no poi sono solo ieri lei è botto da una settimana non so e non è solo e se io faccio prima te la spacca la mano? ma spacchi lei spacca proprio lei me lo se ne frega noi ci fregiamo il rosso il rosso è natale è inquietante ah bene bene ora due ragazzi una la metto però quali metto adesso? qual è la più adeguata al momento? questa la metto nella parola prima questa ma c'è doma c'è tutti che gatto hai che maschini? ehi maschini dai maschini dai maschini dai maschini dai maschini dai maschini dai maschini questa finisce su facebook grazie grazie hai ratto hai uk non qu'ha mai netto grazie è l'esperto delle spille mica lo vuoi si fa in fila di brutto eh è quello che eh così sta giù dove si mette non ci metto io ho fatto la stagione eh ma qui che stia su tutte sul lobo sul balde adesso lo pugge così va bene se è sul lobo ti appuntano dietro devi schiacciare bene no qui t'ho fatto l'altro prima devi ecco così devi vedere tutto l'appunto eh ma cos'è la videocamera bella è bellissima eh prof quella la puoi anche togliere con 6 una medaglia bella questa eh bella fa bene c'è la carta di dita va ce l'ha giavata ce l'ha giavata ce l'ha giavata ce l'ha giavata coppia coppia per la coppia per la coppia per la coppia per la coppia quando è la verifica domani prof domani studio di funzione domani prof un anno domani si rinizza di brutto e io la capito domani 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 però è vera domani 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 domani